In questa terza domenica di Pasqua è importante viaggiare fra la prima lettura e il Vangelo. Nella prima lettura noi siamo di fronte alla proibizione di insegnare nel nome di Gesù emessa dal Sommo Sacerdote nei confronti di Pietro e degli altri Apostoli. Ma è interessante come risponde Pietro che riceve questo comando da questi uomini. Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini e ripete il suo annunzio dicendo Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo ad una croce. Di questi fatti, dopo aver detto altre cose, siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. E' interessante che il testo narra che poi Pietro viene flagellato. Fecero flagellare gli Apostoli e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà e essi se ne andarono lieti di essere stati giudicati degni e di subire oltraggi per il nome di Gesù. Ma questo Pietro che in questo capitolo quinto degli Atti degli Apostoli ha questa libertà, ha questa sfrontatezza, ha questa tranquillità di fronte a colui che lo può far flagellare e di fatto lo fa flagellare. Se controlliamo di cosa si tratti la flagellazione, siamo di fronte a qualcosa di terribilmente doloroso, terribilmente umiliante. Ecco, ma come fa Pietro? Ma non è lo stesso questo che di fronte a una ragazzina non è stato capace di affermare di essere del Signore, di essere suo. Questo uomo è un rinnegato, questo ha rinnegato il Signore e come mai oggi è capace di farsi flagellare? Tutto questo lo spiega splendidamente il Vangelo che ci mette di fronte a quel momento in cui Gesù tre volte chiede a Pietro se lui gli voglia bene. C'è un gioco di verbi in quelle domande, ma non abbiamo qui il tempo di spiegare quel gioco. Il punto è che dopo l'esperienza di una pesca miracolosa, piena di segni e di dettagli importantissimi, Simon Pietro e gli altri discepoli che sono con lui stanno mangiando con il Signore e quando finiscono di mangiare scatta questa tortura di Gesù verso Pietro, perché tre volte in maniera martellante gli farà la stessa domanda e alla terza volta in cui Simon Pietro si sente domandare se veramente voglia bene al suo Signore, lui diviene triste. Ecco, questa tristezza è importante, rimane addolorato, dice la traduzione, che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene e gli disse Signore tu conosci tutto, tu sai tutto. Il Signore sa tutto, quel tutto che cos'è? Un'altra volta, di fronte a un fuoco di brace, tre volte, Simon Pietro aveva rinnegato il Signore, ed ecco che davanti a quel fuoco con la forza di un cibo nuovo, sulla base di un dono che è la relazione con lui, con il Signore Gesù da risorto, ecco Gesù sta sanando quella ferita, facendogli dire tre volte ti voglio bene, ti voglio bene. Ecco, questo è molto importante, la vita nuova di Pietro che si mostra nel capitolo quinto degli Atti degli Apostoli, che è appunto la prima lettura che proclamiamo, è una vita che sgorga da un'esperienza, non è una qualità propria di Simon Pietro. Simon Pietro lo abbiamo conosciuto per quel che è davanti a quella serva, davanti a quei soldati, davanti a quella gente, è una persona fragile e debole che non è fedele al suo maestro e lui che si era millantato come il primo e il migliore degli Apostoli, aveva detto se anche tutti ti tradissero io non ti abbandonerò mai, falso, lui è proprio quello che lo ha fatto, questo atto di abbandonarlo. Ecco, come diventa questo uomo franco, libero, che si lascia flagellare e che resta in posizione eretta e serena e libera davanti a una minaccia così forte come l'odio, la rabbia di quello stesso sommo sacerdote che ha fatto crocifiggere Gesù. Ecco, è passato per questa tristezza, questo dolore, rimanere addolorati, stare con la propria storia davanti al Signore e provare quella che noi sappiamo essere la compunzione del cuore. Curioso, lui stesso negli Atti degli Apostoli dovrà cercare questo dolore. quando annunzierà il Vangelo, dice il testo degli Atti, coloro che lo ascoltavano si sentirono trafiggere il cuore. Ecco, questo dolore interiore, questo dolore è necessario, è la liberazione dal proprio ego. Pietro, che viveva un tronfio delle sue qualità e ben compreso del suo ruolo di primo dei discepoli, dovrà scoprirsi un gran povero o un gran miserabile, una persona fragile e incoerente. Dovrà scoprire quanto il Signore lo ama. C'è la scena nel Vangelo di Giovanni della lavanda dei piedi dove Pietro non vuole essere lavato nella parte sporca, ma è necessario che i suoi piedi siano lavati dal Signore. e dice Gesù, se non ti lavo non avrai parte con me. Avere parte con Cristo è ciò che compare nella sua libertà, nella sua franchezza e nella sua gagliezza di fronte a una flagellazione. E invece questa mancanza di libertà era il segno del suo uomo vecchio, di come era prima dell'amore. Allora il passaggio è l'essere stati amati, è l'essere stati perdonati dei propri orrori. Ed è lì che il Signore Gesù gli annunzia ciò che noi vediamo compiuto poi negli Atti degli Apostoli. Quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, quando eri un infantile, quando eri un immaturo facevi tutto di testa tua e assolutizzavi la tua visione e la tua volontà era la tua guida, il tuo imprescindibile. Ma quando sarai vecchio, dice il testo, cioè anziano, cioè maturo, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. È l'immagine di qualcuno che sarà crocifisso, tenderà le mani e avrà una veste che non vorrebbe avere, avrà da fare qualcosa, sarà condotto dove non vuole andare e cioè inizia a fare la volontà di Dio e inizia a essere davanti agli altri non come un aggressivo ma come un mansueto e questo sarà Simon Pietro. Da dove viene la vita nuova? Non viene dall'impegno, non viene dalla coerenza, non viene dallo sforzo, viene dal perdono, viene dall'esperienza di essere stati oggetto di un'opera di sgretolamento del nostro ego. Perché Simon Pietro può annunziare il Vangelo? Perché è libero da se stesso, perché è stato disilluso sulle sue alte aspirazioni che riguardavano quel che lui credeva di poter raggiungere. In questa domenica noi vediamo cos'è la vita adulta, chi è il maturo, chi sa assecondare Dio, chi sa stare davanti a Dio come qualcuno che deve seguire. Infatti l'ultima parola di questo testo è seguimi, che era la sua prima chiamata, ora lui la può compiere. Tante volte Dio ci fa delle promesse e noi vediamo che forse non sono ancora del tutto realizzate, c'è qualcosa ma non c'è tutto, perché manca qualcosa, cosa manca? Manchiamo noi, non siamo arrivati all'essere abbandonati, disponibili perché amati, perché fiduciosi, perché ormai convinti di quella tenerezza che il Signore ci usa e che non rinnegherà mai nei nostri confronti.